Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora oggi 24 dicembre è la vigilia di Natale e ci sono un sacco di cosa fare tra giorni, preparativi, cose varie e vi voglio portare nella mia giornata. In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bob tail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ragazzi è notte fonda, tra pochissimo e vado a metà a letto. Secondo la tradizione, vuole che i regali li apriamo alla vigilia, questo è quello che ho ricevuto, trucchi, un quaderno per gli schizzi, cuffie per proteggere le orecchie e questa mini lambadina. Per il regalo vero, cioè quello proprio grande, diciamo il grosso, devo aspettare domani mattina e non vedo l'ora. Buonanotte, a domani. Ciao ragazzi, buongiorno, qui è la mattina di Natale. Come vi avevo anche accennato ieri sera, ero proprio stanca, perché si è fatto tardi. Ho ricevuto altri regali stamattina. Questi trucchi, come potete vedere. E sono molto, diciamo, comodi. Si possono tenere anche in borsa, perché il contenitore è piccolino, però ci sono diversi trucchi, come potete vedere, quindi è molto comodo. Poi ho ricevuto questo per gli occhi. E basta. Quindi, ragazzi, io spero di far uscire anche uno speciale capodanno. Come potete vedere, sto ancora in pigiama, quindi tra poco è pronta a mangiare, quindi mi vado a vestire. E quindi vi saluto qui, quindi vi vorrei augurare a tutti un buon Natale e ci rivedremo presto.